Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso un'azienda di Corso Stati Uniti a Padova per un infortunio sul lavoro capitato durante le operazioni di scarico di una casetta da un camion all'interno di un capannone. Danneggiata anche una trave della struttura è ferito il conducente del camion che stava manovrando il telecomando della gru del mezzo pesante il quale sembrerebbe non abbia più risposto ai comandi, continuando la salita del braccio e causando la rottura di una trave di cemento armato del tetto dell'edificio. Il conducente manovratore rimasto leggermente ferito è stato soccorso dal personale del SUEM 118 mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a una verifica della struttura sia internamente che esternamente con l'ausilio di un'autoscala. Le operazioni delle squadre sono terminate dopo circa due ore con una serie di prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza del capannone.